benvenuti a tutti i ragazzi in questo nuovo video oggi andremo a visitare proprio il museo ferrari di maranello eccoci arrivati appena entrati ragazzi ecco i biglietti ed ora andiamo ecco il video di presentazione della nuova vettura la nuova sf24 ed eccoci qui entrati nel paranusio ragazzi mamma mia bimbo si fa bene tutta la storia dello stabilimento ferrari riproduzione dello studio di anzio ferrari ma che emozione veramente spettacolare la mitica è fisch in quanto il cavolo da oro non 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 se era un video con tutti mamma mia però non potete comprendere l'emozione non 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 Livrea fantastica Ragazzi un'astronave Non può essere più un'astronave Sembra veramente venuta fuori Da un altro pianeta questo Ragazzi proseguiamo il nostro giro Con lei Una delle vetture che ha fatto emozionare Che fa ancora emozionare I fan della ferrovia Tutti i campioni Tutti i campioni Per tutti i campioni Fino a lui E fino a chi Vai qua Ragazzi siamo qui F1 126 CK E il mitico GIL Il mitico GIL Poi F310 Ragazzi lo seguiamo Con la F399 Numero 3 Sempre Schumi F1 2000 La prima vettura Campione del mondo Dell'era Schumacher Indimenticabile Indimenticabile Stupenda Ragazzi F2218 F2108 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 Guardate le macchine Più dominanti Più dominanti Della storia Della F1 Ragazzi poi lei è l'erte delle 4 il vero e proprio bolide infine ragazzi c'è l'ultima ventura campione dell'uomo per ora ebbe 2007 la lettura campione del mondo con Kimi Raikkonen e qui 166 perdita 340 mm mamma mia ragazzi che storia guardate gli interni prendendo 268 sp qua nel 1956 vantaggio non c'è il titolo bombiale e il muto davanti ricorda un po' le letture moderne la storia che cambia ed evolve passo dopo passo a l'uomo a a a Sf71H ragazzi Stupenda La libreria della Sf23 ovviamente ancora Guardate Partico E' scritta Partico Questa qui è una riproduzione dell'area box Partico 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 Partico